Ciao ragazzi, allora siamo qua per la seconda parte della critica delle foto che avete mandato per il contest. Ripartiamo da Marco De Laiti che ci ha mandato questa foto di questa ragazza che sta guardando fuori dalle veneziane come se fosse notte, che sta entrando della luce, è una foto molto particolare, a mio parere molto ben riuscita. Allora, l'unica cosa che non mi convince tanto, ce ne sono due, una è proprio una cosa piccolissima, l'altra invece è un gusto personale. Allora, per prima cosa, visto che sembra che stia guardando fuori dalla finestra di notte, trovo che i colori siano un po' troppo spenti, dovrebbero rappresentare un po' di più l'idea di una persona che sta guardando fuori di notte, quindi avrei dato un colore un po' più azzurrino, avrei cercato di fare quella luce come se fosse la luna che sta entrando dalla finestra o un lampione, qualcosa del genere. Quindi, non lo so, questo colore estremamente desaturato, secondo me fa perdere un po' di mood, un po' di atmosfera alla foto, che di per sé se non sarebbe molto bella. E seconda cosa, ma questa invece è veramente una nota così per migliorare, la fetta di luce più grande, quella dovuta al fatto che lei sta aprendo la veneziana, l'avrei fatta cadere sull'occhio o quantomeno, se si vuole comunque mantenere in quella posizione, che non ti piace che sia la fetta più grande quella che va a cadere sugli occhi, avrei fatto in maniera tale che la fetta di luce che va a cadere sugli occhi non illumini solo la parte bassa, ma in genere che salga quel pochino che va a prendere anche la palpebra. Però questo, come dicevo, è un gusto personale, altrimenti comunque ottimo lavoro. Marco fidanza. Allora, Marco ci ha mandato questa foto che di per sé ovviamente è tenerissima, però secondo me manca su tanti tanti aspetti, nel senso che il tema è tenerissimo, ma come è fatto la foto secondo me poteva migliorare parecchio. Nel senso che allora il bianco e nero è gestito un po' male perché è grigio, non è bianco e nero, è una scala di grigi. In più, non lo so, l'illuminazione è vero che è stata fatta sicuramente con una luce off camera, però non si vede tanto, non ci sono luce e ombre, è tutto illuminato uniformemente o quasi, a parte il fondale che è estremamente bianco. Non lo so, avrei cercato, se è possibile anche, so che non è facile perché con un bambino che sta al seno non è che gli si comanda come mettersi, però avrei cercato di dare un po' di catch light nell'occhio del bambino. Infatti la luce che ha, la catch light che ha nell'occhio, quello sfocato, secondo me è molto interessante, mentre invece l'occhio in primo piano, quello a fuoco, non ha alcuna catch light, cioè ne ha una ma è estremamente leggera, quindi avrei cercato di dare un po' di risalto all'occhio del bambino spostando la luce in maniera tale che avesse un po' più catch light nell'occhio. E in più è meglio fare un bianco e nero, veramente bianco e nero, questo sembra veramente la conversione standard da foto colorata a bianco e nero, cosa esce? Esce. No, perché se no vi escono foto grigie, non bianche e neri, ok? Marco Magosso. Marco ci ha mandato questa foto che è estremamente simpatica perché comunque per essere in casa si è inventato una roba allucinante, ha preso tutti gli oggetti che aveva in cucina a quanto pare ed è riuscito a tirare fuori questa immagine veramente carina. Allora, di per sé la foto diciamo che è simpatica, anche a livello di colori non è male. L'unica cosa che io poi non sono esperto di still life, però diciamo che fare le superfici metalliche con i flash non è per niente facile. E infatti qua lo vediamo subito perché una parte non è uscita bene nel senso che è estremamente sovraesposta, nell'altra la luce rossa è un po' elevata e purtroppo sembra che intorno sia tutto rigato, ma come probabilmente lo è perché è uno scolapasta che viene utilizzato veramente e ci sta assolutamente. Però diciamo che illuminare le superfici metalliche non è per niente facile e quindi secondo me, cioè quando si vanno a fare foto del genere con gli speed light diventa veramente difficile perché non si riesce a capire esattamente dove vanno le ombre, dove vanno le luci. Se ti interessa di più questo stile di fotografia, per carità poteva essere un esperimento fatto solo così per divertirsi, per partecipare al contest e va benissimo, però se ti interessasse di più capire come gestire la fotografia di still life, di superfici metalliche sappi che ci sono fior fior di professionisti che tengono corsi solo sulle superfici metalliche, magari trovi un workshop di un giorno o due che serve solo per capire come si illumina veramente una superficie metallica. Se ti interessa ti lascio anche il nome di un amico nonché super professionista di queste cose così puoi andare al suo corso, quando mai i corsi riprenderanno ovviamente, ok? Martina Prosser. Martina ci ha mandato questa foto del suo cagnetto fatta con due softbox, uno davanti e uno laterale che fa da strip, cioè un softbox a strip quindi più stretto. Devo dire che è veramente interessante perché comunque è una foto particolare di un animale dove il dettaglio del pelo è bellissimo. L'unica cosa che mi lascia un po' così è che si perdono completamente gli occhi. Cioè avrei cercato in qualche maniera, per quanto so che non sia facile con un cane che ovviamente non è che gli puoi dire sposta la testa di qua, sposta la di là. Però avrei cercato in qualche maniera di dare un po' di luce in più agli occhi dell'animale perché a parte quella striscetta di luce data dal softbox che fa la catch light, il resto è un mondo di oscurità. Anche il secondo occhio, invece secondo me, cioè se gli davi un po' più di vita all'occhio aggiungendo magari, non so se ce l'hai, una luce davanti o spostando quella che avevi in maniera tale che illuminasse meglio l'occhio, secondo me la foto ne guadagnava perché così com'è c'è veramente troppo poco occhio illuminato e se uno la guarda da lontano è veramente, cioè è abbastanza drammatica perché praticamente si vede una palla nera di occhio con solo un pezzettino di catch light, quindi poteva essere migliorata. Analogo discorso quindi va a finire sul naso dell'animale che anche in questo caso è un buco nero. Per carità può essere ricercato, però secondo me un po' più di vita all'occhio e al naso con un po' di illuminazione in più non ci stava così male. Massimiliano Corradini, la tua non la commento perché tanto ci conosciamo troppo bene. No scherzo. Allora, Massimiliano ci ha mandato questa foto di particolare perché è con la tecnica lampista applicata alla fotografia macro perché aveva illuminato questo insetto che se qualcuno sa che cos'è buon per lui, io non ho la più pallida idea, l'aveva illuminato appunto con dei flash e devo dire che insomma non è venuta male per essere una macro illuminata con i flash perché insomma è illuminata abbastanza bene. L'unica cosa che avrei cercato magari, lo so che con un animale, con un insetto che sta volando su, forse non sta volando in questo caso ma è comunque lì attaccato ad un fiore non è facile, però non lo so, avrei cercato di dare un'illuminazione un po' più interessante magari cercando di ottenere delle ombre in più perché comunque l'animale così com'è è completamente illuminato, cercare di dare un po' più di tridimensionalità e magari dare un po' più di colore alla luce che sembra già abbastanza colorata, comunque forse un mezzo cto o un quarto l'avevi già messo, non me lo ricordo, però non lo so, magari scaldata un pochino in maniera tale che sembri più una luce dell'alba o del tramonto. Massimiliano Fiorani, Massimiliano ci ha mandato questa foto che allora diciamo che l'idea è buona ma andava migliorata, ti spiego anche perché. Perché secondo me è sbagliato l'angolo con cui è stato illuminato il soggetto che forse sei addirittura te stesso, non me lo ricordo sinceramente, comunque sia, andava cambiato leggermente l'angolo della luce o l'angolo della testa in maniera tale che si venisse a creare il famoso triangolino di Rembrandt sulla guancia. Lo so che non ci sono regole, lo so che te potevi magari intenderla solo così perché faceva più drammatica, per carità, però dato che un pochino di luce arriva sulla guancia, è proprio poca rispetto a tutto il resto, però un pochino arriva, allora a quel punto non è nemmeno una foto in cui c'è solo metà del viso illuminata, una specie di silhouette e il resto completamente in oscurità. Il resto è leggermente schiarito e boh non lo so, è quella cosa a metà che non è né un Rembrandt né uno split, cioè metà viso illuminato, metà no, è quella cosa in cui una metà del viso non è proprio scura ma è leggermente schiarita forse da un softbox, no, in realtà dallo schema che hai mandato non c'è assolutamente niente, quindi magari l'hai schiarita un po' in post-produzione. A mio parere prossima volta cerca di cambiare un pochino l'angolo della luce o della testa in maniera tale che il naso proietti ombra sulla guancia e si venga a formare il famoso triangolino di Rembrandt e tra l'altro anche l'occhio dovrebbe guadagnarne perché non dovrebbe più essere completamente in oscurità, ok? Mattia Canclini, allora Mattia, mettiamolo subito in chiaro, è la persona che ha mandato il backstage più spettacolare di tutti perché ci ha mandato questo backstage fatto in 3D in cui tra l'altro c'è in 3D il ponte stesso, cioè è uguale a quello in cui è seduta la ragazza, quindi tanto di cappello per come sa usare i modelli 3D. A parte questo commentiamo la foto, allora per la foto di per sé non è male, nel senso che è illuminata abbastanza correttamente, si vede che c'è un softbox, c'è un riflettore, che la ragazza è illuminata bene, è solare, è bella la foto, però ho noto alcune cose che secondo me in post produzione andrebbero sistemate. Allora, per prima cosa c'è una doppia striscia a livello degli occhi della ragazza che è ovviamente sul retro, sfocata, che a mio parere dà veramente fastidio e penso, non ne sono sicuro, ma molto probabilmente sono dei fili della luce o qualcosa di similare che quindi essendo illuminati dal sole ed essendo il secondo piano sono diventati sfocati, non sono alla distanza tale da sparire completamente e quindi hanno formato questa doppia striscia di file parallele, purtroppo proprio anche all'altezza degli occhi, quindi danno un po' fastidio con le due strisce dietro, quindi in post produzione l'avrei eliminate, tanto è abbastanza facile da togliere, soprattutto se appunto sai usare così bene il 3D, figurati in Photoshop a fare una roba del genere quanto ci metti. Seconda cosa, e questa invece è una nota che ti voglio fare sui ritratti in generale, la ragazza è bellissima però su un ritratto, per carità, se non è venduto, se è solo un ritratto così fatto per divertirsi va anche bene così, ma su un ritratto non puoi lasciare dei capelli così elettrici e volanti, i cosiddetti flying hairs, quindi i capelli volanti, perché non vanno assolutamente bene, attirano troppo l'attenzione e danno troppo un'idea di disordinato, quindi quelli vanno assolutamente tolti in post produzione. Una nota per chi dovesse fare dei ritratti che si ritrova con una ragazza con i capelli elettrici, ma a volte basta un niente perché siano elettrici, basta che ce li abbia un po' troppo secchi, basta che prima avesse addosso un indumento che magari era un po' sintetico, di lana, che quindi gliel'ha fatti elettrizzare tutti, vanno se possibile stirati prima, ma stirati nel senso che non stiano così come ce li ha lei in questo momento, che sono troppo, troppo evidenti, altrimenti se non riuscite o se vi dimenticate vanno sistemati in post produzione, perché soprattutto quelli sul lato sinistro della foto a mio parere sono veramente fastidiosi, cioè anche, ad esempio, ce ne sono anche tantissimi che si vedono sul braccio di lei, anche quelli andrebbero illuminati, quindi attenzione ai capelli elettrici perché è una stupidaggine, però può cambiare completamente l'impatto di una foto, renderla estremamente più elegante. Questa foto è spontanea, genuina, molto molto carina, sia a livello di luci, sia a livello della modella, che è proprio bellina, tutto un po', però questo è un dettaglio che va considerato sempre, ok? Maurizio Sbardella. Maurizio ci ha mandato questa foto in cui ha fatto un misto tra una luce flash e un faretto led. La luce flash illumina il soggetto, diciamo, per la maggior parte e il faretto led serve per dare un po' di schiarita da dietro. Allora, la foto di per sé, secondo me, va migliorata sotto tanti aspetti. Perché? Mi spiego meglio. Allora, per prima cosa, è un po' innaturale perché il mondo dietro di lei è estremamente scuro, quindi probabilmente a vedere così eri nell'ora blu, quindi poco dopo il tramonto o se non addirittura prima dell'alba, un ambiente molto scuro, che una luce del genere così forte, così luminosa, colorata, secondo me ci sta male perché proprio chi la guarda dice, no, questo qua è stato illuminato con un flash, che non c'è niente di male, però il flash dobbiamo cercare di renderlo che sia amalgami con il resto della luce, quindi secondo me andava molto più debole, andava un po' più, un po' più fine come luce, magari più fredda, perché qua la vedo molto calda, mentre invece il resto del mondo dietro è freddissimo. A me piace molto il contrasto tra fondo freddo e soggetto caldo, per carità, però in questo caso è un po', è un po' forzato, ok? Quindi quella cosa lì, sulla luce che andava calibrata un po' meglio come potenza. Seconda cosa che ho notato, che secondo me hai decisamente esagerato nella postproduzione degli occhi, perché può essere che lei abbia veramente degli occhi chiari così, però così a vedere dalla foto, che purtroppo è un po' piccolina, quindi non posso, cioè ingrandisco, ma più di tanto non posso vedere. Secondo me io hai schiarito veramente troppo gli occhi, quindi va bene che lei abbia gli occhi azzurri, però occhio a non esagerare in postproduzione sugli occhi, perché poi diventano finti. Infatti qua sono dei fari nella notte, cioè già lei è illuminata troppo in un ambiente scuro, in più questi occhi sono schiariti tantissimo, secondo me cerca di non esagerare con la postproduzione degli occhi. Questo in generale è un consiglio per tutti, la postproduzione deve essere fine, elegante, non dobbiamo esagerare e fare il classico effetto di occhi faro nella notte perché abbiamo scoperto il pennello su Lightroom che schiarisce gli occhi, ok? Michele Vol, allora non so se il cognome sia veramente Vol o no, però dalla mail risultava quello e vabbè comunque se non è Vol lo scriverai sotto nel commento, Michele, ok? Allora Michele ci ha mandato questa foto decisamente high key, quindi una foto molto 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 luminosa e va benissimo. Allora un conto è l'high key, un conto è la perdita di dettaglio secondo me. Allora è vero che esistono fotografi strafamosi anche che fanno della pelle completamente bianca da quanto illuminata la loro firma, va benissimo, però a mio parere va bene l'high key ma qua è troppo, troppo, cioè lei non ha più un dettaglio che sia uno, cioè per carità qualcosina andando a ingrandire al 200% si vede però sulle guance, sulle mani, le mani sono allucinanti, sono veramente troppo bianche. È vero che probabilmente è stato spinto in postproduzione per fare un bianco e nero molto violento e ottenere questo high key veramente esagerato. Però di nuovo c'è la postproduzione deve essere, deve puntare a qualcosa ma non dobbiamo perdere del resto. Quindi secondo me bella l'idea, anche ottima la realizzazione, ma avrai spinto di meno l'high key per avere ancora della grana di pelle sia sotto gli occhi che soprattutto sulle mani. Ora se me la vai a perdere sulle spalle che sono in secondo piano può andare bene. Se invece me la vai a perdere sulle mani che sono qua e qua, ok? Sono esattamente in primo piano, non mi piace tanto. Poi sono gusti personali, magari te le intendevi esattamente fatta così e sei super soddisfatto, ben venga. Però secondo me questo poteva essere migliorato. Inoltre una piccola nota, come avevo detto prima per Mattia, secondo me ci sono un po' troppo, per un ritratto così molto ricercato, high key, quindi estremamente curato, probabilmente anche nel trucco, nella posa, tutto un po', di nuovo ci sono troppi flying hairs, capelli volanti che andavano sistemati in postproduzione. Lo so che è una noia allucinante togliere i capelli volanti in postproduzione, però ad esempio ce n'è uno che non è bianco, probabilmente sarà biondo o chiaro, che però è talmente tanto illuminato che sembra bianco, che fa così qua davanti che andava, ci metti un attimo a sistemarlo e rende tutto estremamente più elegante. Anche sul lato sinistro si notano alcuni capelli che fanno così, che di nuovo non sono bianchi, saranno più chiari degli altri capelli, però sono talmente illuminati che sembrano bianchi e a mio parere vanno a inficiare un po' sull'eleganza dell'immagine che altrimenti è ottima, ok? Monica Zuzzi. Monica ci ha inviato questa foto di questo simpatico signore, che magari è il marito, non lo so, però è illuminato. C'è di nuovo questo tema del nero profondo da cui le figure emergono, che se non saputo realizzare bene è sempre molto pericoloso. Infatti in questo caso abbiamo la faccia che emerge, che è illuminata anche molto bene, ok? E in più abbiamo un po' di rim light qua dietro, che di nuovo qua sulla faccia qua dietro dal collo, che di nuovo è carina, è ben gestita, però lui per il resto si perde completamente nella notte, perché il soggetto è vestito di nero su uno sfondo completamente nero, o il resto non aveva schiarito con una luce di schiarimento molto semplice, oppure dovevi dare un contorno da dietro con una rim light, che può essere un altro modo, se vuoi che lui indossi veramente una maglia nera va bene, ma fammi vedere le sue forme e allora basta che me lo illumini con una rim light dietro, così capisco la sua forma, oppure gli facevi cambiare maglia che ce ne fosse una con dei colori un po' più leggeri del nero. Paolo Bonfanti, Paolo ci ha inviato questa foto di questa ragazza che è illuminata frontalmente a lei da un softbox, octabox, qualcosa del genere, e di lato, dall'altro lato c'era un riflettore, ok? Allora di per sé, di nuovo la foto non è malaccia, è abbastanza interessante anche come illuminazione, avrei cercato di ottenere qualcosa in più a livello di post-produzione, ora non so te a livello di post-produzione quanto ne sai, però secondo me lascia un po' a desiderare, poteva diventare molto molto migliore, prima di tutto come toni colore della pelle che la trovo un po' pallida, non so se forse hai desaturato un pochino, di nuovo lì va a gusti, però l'avrei ravvivata un pochino perché sembra che abbia un colore della pelle un po' smorto, ok? Inoltre un'altra piccola cosa a cui fare attenzione è questa, allora dato che lei è girata così, la luce le proviene da questo lato, questa parte qua del braccio è molto più luminosa del volto, ok? Questo è sempre un problema perché tu per prima cosa fai vedere il braccio, poi il volto e poi si vede tutto il resto. Quindi forse andava cambiata un pochino la posa in maniera tale che il braccio diventasse meno luminoso. Se proprio volevi ottenere comunque quella luce lì, magari in post-produzione avrei abbassato un pochino luminosità sul braccio per far sì che l'attenzione di chi guarda la foto non vada prima sul braccio ma vada sul volto della modella. Paolo D'Angelo. Paolo ci ha mandato questa foto dei suoi nipotini, tenerissima assolutamente, questi suoi nipotini che si stanno dando un bacino. È simpatica la foto perché praticamente c'era il pavimento bagnato, i suoi nipotini, lui ha messo un flash a terra, il risultato ha ottenuto un riflesso sul pavimento dato dal fatto che il pavimento è bagnato, che a mio parere è veramente veramente interessante. Ecco questa è una di quelle foto in cui il nero totale dietro secondo me ci sta bene perché comunque non è solo un viso che emerge dal nero ma comunque c'è una certa, c'è una bella parte illuminata bene, in più c'è anche il riflesso carinissimo dato dall'acqua dei due nipotini sotto. L'unica cosa a mio parere migliorabile però immagino non sia nemmeno così facile con dei bambini è cercare di ottenere una luce un po' migliore perché questa luce è veramente molto molto transciante, non è netta, sarà stato un flash duro, cioè un flash senza nulla praticamente e quindi ovviamente la luce è dura, le ombre sono nette, taglienti. Secondo me se una foto del genere la fai con un qualcosa che ammorbidisce la luce, un softbox, un ombrellino, quello che vuoi, diventa molto più interessante perché purtroppo ad esempio del bambino sulla sinistra abbiamo un'ombra netta, violentissima, qua sul petto, che taglia a metà che è l'ombra portata dal braccio del secondo nipotino. Quindi non sta benissimo secondo me quell'ombra lì. Quindi puoi provare a rifarla, bellissima l'idea dell'acqua sotto per fare il riflesso però non con un flash nudo, cerca di renderlo un pochino più morbido. Pierpaolo Longo. Pierpaolo ci ha mandato questa foto di questo orologio in cui ha avuto molta, ha avuto molta fantasia per realizzare lo sfondo perché come si vede lo sfondo è fatto tutto da bocche e questo bocche è stato ottenuto grazie alla carta dell'uovo di Pasqua stropicciata, fissata al muro con il nastro isolante ed illuminata con un flash che non avendo il gel rosso ci ha messo una copertina anche un libro di scuola rossa davanti, ma va benissimo, anzi assolutamente ha fatto benone, in maniera tale da ottenere questo bocche e in più ha utilizzato un secondo flash per illuminare l'orologio. Allora per prima cosa di nuovo non sono esperto di still life però secondo me una qualsiasi persona esperta di still life questa foto te la boccia in tempo non zero di meno probabilmente perché comunque l'orologio non è illuminato correttamente, è simpatica però cioè non potrebbe mai essere una foto pubblicitaria dato che una parte dell'orologio proprio non si vede, le lancette proiettano delle ombre abbastanza importanti, le lancette quelle del cronografo ad esempio fanno delle ombre che sono un po' fastidiose, in più la parte destra dell'orologio non si vede in poche parole, ora ripeto non sono espertissimo di still life ma secondo me una foto del genere per un orologio non va granché bene e seconda cosa bellissima l'idea della carta stropicciata dell'uovo per ottenere il bocche dietro però purtroppo ti sei scontrato con una cosa che è il fatto che hai chiuso l'obiettivo ad f5 risultato si cominciano a vedere le lamelle dell'obiettivo 1 2 3 4 5 6 7 quindi sono degli eptagoni ok che non sono bellissimi perché lo sfocato fatto dove si vede la forma delle lamelle dell'obiettivo lascia un po' desiderare quindi io avrei cercato piuttosto di fare la foto ad obiettivo completamente aperto così sei sicuro che lo sfocato viene perfettamente tondo e tu mi dici magari lo sfocato veniva troppo grande e quindi non si vedevano più i pallini ok allora a quel punto cercavi di variare la distanza tra l'orologio e lo sfondo con con la carta dell'uovo in maniera tale che uscissero i pallini di bocche ma fossero tondi che sono estremamente più belli quantomeno per quanto mi riguarda rispetto a queste figure ok renato beatrice renato ci ha mandato questa foto di sua moglie che tra l'altro complimentissime a sua moglie sia per il fatto che ha posato sia per il fatto che si è realizzata queste corna tipo male efficient quindi complimenti perché è una moglie veramente che è molto molto in gamba e allora per prima cosa la foto è illuminata abbastanza correttamente nel senso che c'è una luce frontale una luce da dietro a fare da rim light che tra l'altro da cosa ricordo si rim light addirittura proprio con la con la strip con il con la con la griglia insomma in più c'è una luce per illuminare il background eccetera allora di per sé la foto non è male però non lo so non mi convince tanto nel senso che la luce frontale e la rim light dovrebbero in qualche maniera creare un po una parte del viso che è un po in ombra cioè invece qua la rim light c'è la luce principale scusa è talmente frontale che per carità un po di ombra si genera però tra rim light oppure la rim light è troppo è troppo anche lei frontale non è abbastanza dietro risultato le hai una guancia quella che dovrebbe avere rim light ombra luce principale che in realtà è illuminata tutta e quindi vai a perdere un po di tridimensionalità che invece avrebbe potuto essere interessante inoltre e qua gusto personale avrei aumentato un po la potenza della rim light per prima cosa e seconda cosa non lo so c'è questa grana diffusa su tutta la foto che non so se è del telo oppure se l'hai aggiunta tu in post produzione secondo me l'hai aggiunta in post però non lo so non lo so la trovo un po fastidiosa perché mi sembra non lo so sembra una foto su tela come se fosse una foto stampata su tela che hai fotografato la foto su tela non mi convince questa grana avrei provato qualcosa di diverso oppure se proprio ti piaceva l'avrei resa molto meno visibile perché così a primo impatto soprattutto sulla parte del fondale illuminata la prima cosa che si nota è questa grana fatta a quadretti come se ci fosse una tela sopra che non lo so non mi convince tantissimo riccardo serravalle riccardo ci ha mandato questa foto in cui di nuovo anche lui ha usato una veneziana illuminata con un flash in maniera tale che sembri che la ragazza stia dall'altra parte della finestra ok allora l'unica cosa di questo stile di foto che secondo me puoi puoi migliorare perché di per sé la foto è fatta bene ci sono due cose che secondo me sono migliorabili uno il fatto che la ragazza sta sta guardando il fotografo ma se fosse veramente una foto immaginati di una ragazza con una veneziana al tramonto cioè dietro una veneziana al tramonto la ragazza non starebbe guardando il fotografo avrebbe lo sguardo perso nell'infinito che sta pensando qualcosa bisogna sempre pensare un po alla storia è vero che ha dei begli occhi e quindi è giusto che guardasse te però in un ritratto del genere in cui stai creando la storia di lei che è al tramonto dietro la veneziana la luce gestita molto bene e poi lei guarda te secondo me cozza un po con la storia che stai creando ok perché a quel punto sembra un po uno spione che sta che sta guardando dalla finestra e lei ti sta guardando per carità ha un mezzo sorriso accennato elegantissimo che però che fa capire che non è che sei uno spione però secondo me c'entra poco lo sguardo della modella a te quando fai un'illuminazione del genere perché pensiamo sempre alla storia che stiamo costruendo inoltre seconda cosa avrei cambiato leggermente l'angolo che forma la testa della della modella con la luce perché quell'ombra prolettata dal naso è giusto che quell'ombra sia dura assolutamente perché deve essere simile a un tramonto al tramonto l'ombra cioè al tramonto la luce non è soft è dura quindi va benissimo che sia dura è andata a prendere un pochino l'occhio e quindi è un pochino fastidiosa da quel punto di vista avrei cambiato bastava veramente probabilmente pochi gradi che quell'ombra rientrava un po diventava meno importante e secondo me la foto diventava più carina però questa è proprio una nota estremamente di dettaglio ok roberto coletta roberto ci ha inviato questa foto di casa sua dove c'è giustamente è in quarantena e quindi cosa fa come tutti noi si dà al a dei buoni pasti e quindi c'è questa foto della sua cucina dove ci sono un po di cose tra l'altro che sembrano buonissime messe lì sul tavolo allora c'è solo una cosa che non mi garba di questa foto prima di tutto è un po disordinata ma vabbè lo capisco che essendo fatta in una cucina vera e non finta preparata per per fare uno scatto ci sta che sia un pochino disordinata ma è normale è una scena di vita vissuta mettiamola così allora per prima cosa c'è la luce dietro che arriva dalla finestra c'è quella finestra che a metà aperta metà no cioè o la tieni completamente aperta o la tieni chiusa così a metà secondo me ha poco senso in più c'è qualcosa che le sta davanti che probabilmente la tenda che non fa proprio bella bella figura inoltre ma secondo me la parte un po più da migliorare di questa foto è che la luce è blu non si capisce perché non so se hai sbagliato il bilanciamento del bianco se l'hai fatto apposta se hai messo un gel blu sulla luce non lo so però il fatto che il ripiano poi il pezzo del ripiano che si vede che va giù la l'affettatrice siano tutti tendenti al blu cozza un po con la foto che vuole essere secondo me una foto del genere di un ambiente casalingo quando si sta cucinando ci sono dei buoni cibi in tavola a parte che andava illuminato un po di più la parte dove ci sono i cibi per dare più importanza a quello però deve essere un ambiente caldo accogliente se invece me lo illumini di blu oppure uso un bilanciamento del bianco un po troppo elevato che fa sì che sembri blu non lo so non mi convince tantissimo roberto marras roberto ci ha inviato questo autoritratto che si è fatto da solo in casa in cui praticamente ha utilizzato una luce una main light poi un riempimento dato con un faretto led e molto interessante uno snoot con un gel blu sul fondale per fare quella luce che scende così sul fondale allora sulla luce del fondale la trovo veramente interessante sul ritratto di per sé invece lascia un po a desiderare ma glielo ho già scritto lo sa benissimo glielo ho scritto via mail perché perché giustamente essendo un autoritratto non è facile posare e al contempo essere illuminati correttamente quindi le ombre che si sono create non sono esattamente bellissime sono sono da gestire meglio quindi c'era un po da cambiare l'angolo della faccia oppure da cambiare l'angolo da cui arrivava la luce inoltre il riempimento non si vede più di tanto perché perché il riempimento è dato da una luce estremamente piccola che è un faretto a led che quindi fa sì che la catch light ci sia una sola catch light in un occhio solo dal riempimento estremamente piccola quando l'altra invece è abbastanza grande quindi sono due luci un po diverse non è una regola però diciamo che se le catch light nell'occhio hanno dimensione simile tipicamente chi guarda la foto apprezza molto di più la foto quindi se riusciamo a fare dimensione simile di solito è meglio roberto rinetti roberto ci ha inviato questo ritratto che è stato realizzato con una main light con non mi ricordo cos'era ombrellino poi una una luce di riempimento con un soft box e una rim light da dietro sempre con un soft box allora qua di nuovo il nero totale dietro ci sta assolutamente perché comunque il soggetto riempie tanto non è solo una faccia che esce quindi quello va bene il fatto che il soggetto stia guardando la luce principale di nuovo non è male per il fatto che si vede benissimo la catch light che è generosa e grande assolutamente allora secondo me possono migliorare un po di cose per prima cosa il riempimento lo trovo troppo importante secondo me il riempimento dovrebbe essere un po più delicato qua non dico che abbia la stessa importanza della luce principale perché si vede che è un pochino meno potente della luce principale basta vedere i due lati del viso il lato quello illuminato dalla luce principale è un po più chiaro del lato invece in cui c'è solo riempimento però secondo me è ancora troppo io l'avrei sottoesposto tranquillamente di uno stop per ottenere un po più di tridimensionalità che invece così con una foto in cui il riempimento è così potente che magari a vedere così è tipo solo uno stop inferiore alla luce principale è il risultato che la foto è molto piatta ok c'è spiaccicata lì bella per carità ben gestita il bianco e nero secondo me anche tu puoi migliorarlo un pochino lo vedo un po troppo grigio ma sono gusti personali per capirci tutti quelli che sto dicendo il bianco e nero lo vedo un po troppo grigio per me il bianco e nero è ad esempio quello di peter colson peter colson fa dei bianco e nero in cui c'è il bianco e il nero c'è anche il grigio per carità però non è un mondo di grigio è un bianco e nero vero e proprio ecco anche qua mi sembra che prevalga molto il grigio quindi a parte questa nota il riempimento prova a farlo un po più debole magari due stop sottoesposto rispetto alla luce principale se non tre così ottieni molta più tridimensionalità rispetto a una foto che invece così appare abbastanza piatta rosario a carino rosario ci ha mandato una foto esagerata veramente bellissima con un setup luci veramente fatto bene in cui c'è una luce frontale che serve per illuminare la parte frontale della modella una luce dietro con un gel rosa rosso qualcosa del genere per per fare la rim light una luce dall'altro un'altra rim light azzurra e un riflettore opposto alla rim light azzurra questo per far sì perché aveva bisogno di due rim light perché così facendo questa polvere che non so sarà farina qualcosa del genere si vedeva si vedeva meglio allora la foto è bellissima per carità niente da dire però come sempre qualcosa da migliorare c'è allora per prima cosa io avrei spinto un po di più i colori già che hai questi colori bellissimi questo rosa questo azzurro pompali un po in saturazione che si vedano di più così sono sono delicati e la delicatezza per carità importante però sulla farina secondo me un po più di colore l'avrei dato ok inoltre c'è secondo me una cosa strana che poteva essere migliorata ovvero il fatto che praticamente sotto il collo parte la una luce azzurra che riempie la l'avena questa qua che quindi fa la rim light qua che però poi si ferma di botto ok che per carità è dovuta al fatto che praticamente poi si genera un'ombra probabilmente data dal volto stesso perché la luce la rim light probabilmente era abbastanza alta essendo alta il mento faceva ombra sotto e quindi dove c'era l'ombra quindi era meno esposto è risultata più azzurra e sotto invece dove non c'era l'ombra del volto risultava più bianca non lo so la sembra un po tagliata lì la luce blu sul collo io avrei per carità visto che non è facile gestire queste cose assolutamente tanto di cappello per aver fatto questa foto avrei cercato di in post produzione continuare l'azzurro e in generale cercare di in post produzione eliminare questo taglio netto che si ha che c'è la parte sopra molto scura in ombra e la parte sotto più luminosa cercare di uniformare un po il tutto perché lì dal collo si vede proprio un taglio che va a rovinare una foto che altrimenti di per sé è veramente veramente bella settimo lo nigro settimo ci ha mandato questa foto di dell'incenso illuminato in maniera super corretta dal flash è veramente una esposizione molto molto bella tra l'altro l'incenso ha fatto quelle volute in mezzo che sono molto carine e l'unica cosa che di questa foto è che per carità è illuminata bene però è un po statica cioè è lì una foto di un incenso punto di solito queste foto poi si cerca in qualche maniera in post produzione di renderle più vivaci ad esempio si può pensare di fare una gradazione di colore si può pensare di fare varie foto dell'incenso e maggio tu ne abbia fatte varie e poi montarle in maniera tale che si formi qualcosa di più perché solo così è estremamente minimale e va bene però rimane un po lì non racconta nulla è una foto di un incenso che uno può dire bello ok me la salvo la posso usare poi in come texture per qualche altra foto così di per sé è un po senza significato ok silvano tiberti silvano ci ha mandato questa foto in cui diciamo che si è divertito veramente tanto con i flash e i gel colorati il risultato è una foto veramente interessante in cui c'è questa ragazza che sta aprendo questo baule è illuminata di rosa da un lato è illuminata in maniera bianca dall'altro e in più da all'interno del baule dal cui esce del fumo ha posizionato un flash con un gel azzurro blu qualcosa del genere quindi devo dire la foto è veramente veramente interessante allora di per sé la foto è molto molto ben fatta quindi non è che c'è granché da migliorare se proprio vogliamo trovarci qualcosa allora per prima cosa il lato quello rosa illuminato di rosa forse è un po troppo sottoesposto rispetto all'altro lato che invece è decisamente sopraesposto per carità va bene anche se è un po sottoesposto rispetto all'altro perché il cuore deve essere guardare lei che sta aprendo il baule però non lo so un po più di schiarite gliel'avrei data inoltre seconda cosa sempre su quel lato lì io avrei fatto posare meglio la gamba della ragazza perché non sembra abbia le gambe corte però secondo me se gliele facevi la facevi posare in maniera più elegante diventava molto più fine mentre invece questa gamba essendo più avanti di lei ovvero cioè rispetto a te che stai fotografando la gamba è più avanti rispetto a lei è un po troppo grandicella perché poi cosa succede è che con la luce che gli hai dato con questa luce rosata viene messa molto in evidenza e secondo me le gambe dovevi farle posare in maniera più elegante però è proprio una nota così se vogliamo trovare qualcosa ed inoltre ultima cosa che secondo me poteva essere migliorata è che purtroppo c'è si passa dalla parte davanti che è illuminata dal volto e un pezzo di capelli dietro di azzurro e poi c'è questa luce che prende luce rosa che prende i capelli dietro ma che si ferma tipo a metà testa la parte sopra della testa è molto molto scura rispetto al resto non so se potevi alzare un pochino la luce rosa in maniera tale che prendesse quello non so se c'era qualcosa che faceva ombra non so se era ricercato però secondo me il fatto che non si veda il profilo della testa e si vedano solo un pochino di capelli va va a perdere un pochino su uno scatto che per il resto è realizzato in maniera ottima simone aschero simone ci ha mandato questa foto di due fedi a vedere così che sono illuminate con un flash da una parte rosso e dall'altra blu e allora di per sé la foto non è malaccio però secondo me andava migliorata per un po di cose per prima cosa si vede nettamente lo stacco tra il fondo e cioè tra il fondale e il fondo dove sono appoggiati gli anelli c'è quella linea nera che secondo me è inguardabile bisognava cercare in photoshop se non riesci a farlo fisicamente costruendo la cosa in photoshop cercare di uniformare il tutto anche perché poi c'è da una parte un pochino di luce blu questa linea blu molto violenta dall'altra c'è questa parte rosa rossa così che insomma quindi le luci vanno a essere interessanti sul fondale andrebbero uniformate un pochino ma sono interessanti sul fondale mentre invece si vanno un po a perdere sugli anelli sui quali c'è praticamente solo luce blu la parte rossa si va un po a perdere ed inoltre gli anelli non sono illuminati proprio in maniera corretta ma di nuovo torniamo al fatto che illuminare un materiale metallico è tutt'altro che facile quindi gli anelli secondo me andavano schiariti un po perché l'ombra nella parte sopra è decisamente importante e sì sono interessanti però non so un riflettorino sopra che mi andasse illuminare anche la parte la parte degli anelli in alto secondo me ci stava bene inoltre avrei rifinito un pochino in photoshop il riflesso sotto degli anelli perché anche lì non è bello come anche prima ti dicevo sul fondale si vede la riga nera si vedono anche due righe nere verticali sullo sfondo che di nuovo sono inguardabili piuttosto ritaglia ma non far vedere come esattamente come hai fatto la parte dello sfondo ok simone balboni simone ci ha inviato la foto di questa ragazza illuminata da un flash da una parte e probabilmente dall'altra da un altro flash colorato di rosso allora non lo so non mi convince tantissimo questa foto perché è una bella ragazza però vedo un'illuminazione molto split light perché praticamente hai che un lato del viso è completamente illuminato dalla luce principale di cui si vede anche il riflesso e va benissimo però la luce principale è a un angolo tale che non arriva minimamente dall'altra parte l'unica parte di luce che hai dall'altra parte è un pochino di riempimento dato dalla luce rossa che però di nuovo essendoci i capelli davanti non arriva quasi niente quindi è un viso a metà che secondo me lascia un po' il tempo che trova avresti dovuto cercare di fare la luce in maniera tale che andasse a finire un po' sull'altra guancia che diventava probabilmente più interessante io non sono un gran fanatico dello split light cioè metà viso illuminato metà no se ti piace per carità ben venga però a me non non ispira tantissimo in più la trovo con la luce un po' bassa l'avrei messa un po' più in alto per proiettare le ombre dalla parte giusta però lì vabbè sono gusti personali stefano venneri la stefano questa foto come ho già detto durante la premiazione è bellissima ci mancherebbe altro è stupenda c'è un cielo bellissimo dietro esagerato i due soggetti sono illuminati correttamente ok quasi niente da dire ti posso solo dire questo uno la roccia davanti a loro secondo me è un po' troppo importante cioè non come dimensione che ci sta che loro siano lì dietro hai cercato l'angolo perfetto in cui si vede si vedono dietro gli scogli eccetera ma il problema è stato che è stata troppo illuminata quindi secondo me in post produzione dovevi ridurla un po' di illuminazione perché a questo guardandola così il soggetto sono i due ragazzi e la pietra che non è proprio bello dovrebbero essere solo loro quindi dato che non si poteva spostare dato che l'angolo che avevi scelto per quella foto era quello secondo me quella pietra in post produzione andava tirata giù di luminosità parecchio perché così la vedo purtroppo tra l'altro nella parte sopra è anche più chiara che la parte sotto non ti è andata neanche bene che fosse una di quelle pietre scure che ci sono magari da altre parti che quindi era un po' meno invasiva così purtroppo è veramente tanto invasiva perché è un soggetto lei stessa come sono soggetto i due ragazzi uno di fronte all'altro facciamoci attenzione a queste cose perché soprattutto quando illuminiamo in maniera così pesante cioè in maniera importante come sono illuminati loro per carità secondo me loro vanno a perdere un po' troppa importanza inoltre per piccola nota a me piace tantissimo il cielo fatto così ci mancherebbe altro è spettacolare però occhio con cieli fatti del genere perché con certi clienti rischi che poi come mi hai detto tu stesso tu nella mail hai dovuto dirmi guarda che il cielo era veramente così chiaramente l'ho spinto molto in post produzione però era veramente così non l'ho aggiunto in post da un'altra foto occhio a non esagerare troppo con i cieli su un ritratto perché poi uno ti possono dire che l'hai aggiunto dopo ogni volta devi stare a scusarti e vabbè quello è il secondo piano due a volte può assumere un po' troppa importanza rispetto ai soggetti perché se uno la guarda da lontano sì ci sono l'oro e la pietra però poi c'è subito il cielo un po' di meno non dico tanto ma un pochino di meno e poi è perfetta ravi peris ravi ci ha mandato questa foto meravigliosa di sua figlia che sta leggendo un libro circondata da libri è poeticissima è veramente una foto molto molto bella molto elegante allora io avrei solo migliorato qualcosina nel senso che il lato del viso illuminato della bimba è molto bello il secondo lato non lo so c'è un qualcosa che è vero che hai creato una specie di rim light non so bene se hai aggiunto una sì c'è scritto che c'era un riflettore ok c'era un riflettore dall'altra parte avrei cambiato leggermente l'angolo in maniera tale che quella luce andasse un po di più a illuminare un pochino di più il volto non so se riesco a spiegarmi il lato in ombra c'è luce fettina in ombra molto fine luce data dalla rim light del riflettore quella parte in ombra secondo me rovina un pochino l'atmosfera ma potevi anche non cambiare l'angolo schiarirla un pochino in photoshop e probabilmente veniva veramente perfetta inoltre e questa è una nota che vale per tutti eravi qua veramente secondo me allora va bene la firma va benissimo mettere la firma sulle foto per chi la vuole mettere io non la metto più perché tanto non mi sembra il caso però va benissimo una firma ma non metterla più così che rovini veramente una foto eccezionale perché messa lì in alto con il simbolo del copyright in più nemmeno personalizzate proprio solo un carattere normalissimo secondo me vai a rovinare le foto con le firme messe così quindi va bene che probabilmente l'hai aggiunta solo perché l'hai mandata per il concorso ci sta ci sta benissimo perché hai detto poi stefano me la pubblica sul sito almeno le persone la vedono per carità ho messo i nomi sotto di tutti quindi se uno poi la cerca cerca quella persona trova assolutamente quella persona che ha fatto la foto però non lo so io ho questo rapporto con le firme che o sono veramente eleganti sono belle ad esempio c'era c'era qualcuno che me l'aveva mandata con una firma molto bella adesso non ricordo più comunque ho una firma che veramente sembra scritta a mano ed è carina studiata bene messa in un angolo che non dà fastidio o centrale ma di nuovo che non sia così in primo piano oppure piuttosto che mettere una firma così con un carattere che sembra non lo so un verdana in italic secondo me si è andato a rovinare un po' una foto che altrimenti è poeticissima quindi prossima volta che metti una firma fai più attenzione a dove la metti e che sia un po' meno visibile e soprattutto più personalizzata perché con quel carattere lì secondo me vai a perderci tanto oppure non metterla proprio detto questo spero vi sia stata utile questa critica che ho fatto delle vostre foto ci ho messo un'eternità a registrarla se non siete soddisfatti dei commenti che vi ho fatto vi ritenete perché insomma ci va il suo tempo a fare dei commenti su tutti e non posso né perdere dieci minuti per ognuno né fare solo dieci secondi per ognuno quindi ci andava una media su tutti risultato questi due video sono diventati enormi però a parte questo spero vi sia piaciuto dato l'impegno che ci ho messo se non siete d'accordo su qualcosa che ho detto ripeto sono tutti pensieri personali come sempre quando si fanno le critiche ve lo potete scrivere via mail tanto avete la mia mail perché è quella del contest mi dite stefano guarda secondo me così cosa non è vero però in realtà su questo altro aspetto che mi hai fatto notare effettivamente forse hai ragione non lo so se avete voglia se non commentate al video qua sotto di youtube a me fa sempre piacere ok detto questo vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao